8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buona camminata! E' il campione, il libero è giusto! E' il campione! Grazie ragazze! E' un grande bravo da sempre! Abbiamo un po' di più percorso dei tutti più importanti e più percorso per te, grazie per la campione! E non ci dà un gioco! E' il campione! I passettini! Questo è lo spinto del Zorani! Grazie ragazzi! Oltre il gioco! E poi c'è un super fuoco! Grazie! Grazie ragazzi! Oltre il gioco! Non lo vincere! Non lo vincere! Non si corre oggi! Si cammina! Grazie ragazzi! Buongiorno! 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 Ragazzi, ciao ragazzi, sono i tuoi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Che fino ad alta la mano ma puoi dirvi! Tuoi movimenti e non dirvi! Tutti in potistime! Tutti in potistime! Anche dei bifidiani non mi dica Non mi dica Non mi dica